Dan Peterson torna sulla panchina dell'Olimpia Milano, è ufficiale lo ha annunciato il sito internet dell'Armani Jins con una nota pubblicata, sarà lui a guidare la squadra fino al termine della stagione 2010-2011, assistito da Giorgio Valli e da Mario Fioretti all'Hotel Melia, nella sala Gran Canaria, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Dan Peterson, prende il posto di Piero Bucchi, tornerà sulla panchina milanese quasi 24 anni dopo la sua ultima apparizione, nella stagione 1986-87, chiude con lo scudetto.